Un allenatore speciale di quelli che non capitano tante volte, lezioni di rugby da uno dei pilastri della nazionale italiana della palla ovale, Mauro Bergamasco vesti i panni del tecnico e impartisce suggerimenti e indicazioni ai regattini da 10 a 15 anni, entusiasti di vivere giornate di sport con un campione indiscusso e ammirato. È la terza edizione del Campus Rugby Mauro Bergamasco, in corso in questi giorni a Bibione, un appuntamento che rinnova la voglia di insegnare ai ragazzi i veri valori dello sport. Ci sono 60 ragazzi che partecipano a questo campus, è un numero importante perché riguarda la qualità che noi tecnici vogliamo dare a tutte quante le attività proposte ai ragazzi. Tutti i segreti del rugby raccontati da un fuoriclasse, ma non solo, al campus ci sono molte altre attività. Novità che riguardano ovviamente la formazione dei bambini, quindi partendo dalla collaborazione che si rinnova con la IPD, l'Associazione Italiana Persone Down, con la quale ogni anno invitiamo alcuni ragazzi down a partecipare a tutte le attività dentro e fuori dal campo. Quest'anno poi c'è la partecipazione del Museo del Rugby, ospite del campus, con una esposizione temporanea di cimeli e maglie storiche di questo sport e tanti aneddoti. Cultura dello sport, cultura del fisico e dell'anima, non solo giganti in mischia nel rugby tricolore. Attraverso gli aneddoti dei personaggi che hanno usato queste maglie storiche di epoche e storie differenti del rugby, riusciamo a creare una memoria storica e delle basi storiche per questi ragazzi e questa sarà utile perché loro formino, anche grazie a queste informazioni, un loro futuro importante.